Ancora buonasera Davide, sei tornato al gol anche in campionato ed è una cosa importante per te immagino, soprattutto mi sembra che la tua condizione stia crescendo di settimana in settimana. Sì sicuramente sono molto felice del gol, lo aspettavo da tanto come si vede, però la cosa più importante è che è arrivata la vittoria di squadra. Ci racconti un po' questa partita perché siete andati sotto, non vi siete scomposti più di tanto, avete costruito tantissimo, vi siete ritrovati sotto anche comunque nell'intervallo e però nella ripresa poi siete venuti fuori alla grande. Sì sicuramente meritavamo già il pareggio nel primo tempo, abbiamo creato molto, a fine primo tempo ci siamo parlati, abbiamo detto di stare calmi, di uscire sempre con lo stesso spirito, con la stessa anima e siamo riusciti a portare a casa il risultato. Hai avuto una dedica particolare nel gol perché ti ho visto? Sì vabbè a parte la mia ragazza, il mio gol lo dedico a mia nonna perché ha subito un'operazione da poco e lo dedico a lei. Voglio chiedere, abbiamo già parlato del tuo gol già in Coppa, però in campionato è il primo gol da quando c'è Troise, sembrava un po' tra virgolette una maledizione anche se le tue prestazioni insomma non sono mai mancate più o meno. Però insomma per te adesso cosa cambia anche dentro di te dopo questo gol? Ma le prestazioni non mancheranno, il gol è frutto della situazione, io mi sono fatto trovare pronto, mi farò trovare pronto sempre, spero di fare tanti gol ma la prestazione della squadra è il primo posto. E non dimentichiamo anche l'apporto comunque che dai proprio al servizio dei compagni, se non vado errato oggi è stato il settimo assist stagionale, quindi a dimostrazione di quello che stai dicendo insomma della tua utilità per i compagni, necessariamente senza segnare ma fai segnare. Sì sicuramente quello è un'arma in più, ma come dico è tutto merito dei miei compagni, se riesco a fornire i miei compagni. Ci stai prendendo gusto con queste doppiette? No, sono contento che sia venuta, sono contento sia della prestazione che della vittoria, perché ovvio dei gol sono sempre contento, però è stata tutta quanta una bella serata diciamo dai. E' stato importante portare a casa questi tre punti per dare anche continuità a quella vittoria di Recanati, insomma sei punti nelle ultime due partite nel giro di pochi giorni, penso siano forse il miglior viatico per affrontare anche la settimana prossima che sarà fatta di tre trasferte in otto giorni, compresa la semifianella di ritorno di Coppa. Sì, è sicuramente un modo per avvicinarci a queste partite concentrati e positivi, però era anche un segnale positivo dare continuità in casa, perché magari abbiamo lasciato due punti contro il Pineto, nonostante una buona prestazione oggi abbiamo fatto tutte e due, quindi siamo molto contenti. E' chiaro che siete passati da un momento di difficoltà nel quale facciate un po' fatica a fare gol e poi sembra che qualcosa si sia stappato in queste ultime due partite, è un po' frutto della casualità, frutto di avversari diversi che avete affrontato? Secondo me è un po' tutto, sia il lavoro che facciamo tutte le settimane, sia noi che ovviamente abbiamo una mentalità che ci sta portando a fare questi risultati, questo lavoro e poi anche oggi secondo me, nonostante fossimo andati sotto, avevamo la sensazione che abbiamo creato tanto e abbiamo tutta la possibilità di ribaltare la partita. Quindi siamo stati tranquilli e poi le cose sono venute perché c'era il gioco, c'era tutto quello che serviva per fare una partita e ribaltare il risultato. In parte hai già risposto, nel senso che questo Rimini sta dimostrando comunque grandi reazioni, la Re Canatesi aveva pareggiato, oggi eravate sotto e in entrambe le circostanze avete dato delle risposte importanti con tanti gol, quindi ecco direi che ha maggior ragione. Sì, come ho detto prima siamo andati nell'intervallo abbastanza tranquilli dentro perché avevamo la sensazione che avevamo la partita in mano e un tiro, abbiamo preso gol, però lo stavamo creando, stavamo giocando anche bene, quindi avevamo già la sensazione che poteva succedere. Quindi siamo andati dentro, siamo stati un attimo a rivedere due cose che dovevamo fare meglio e siamo usciti infatti con la stessa intensità di prima e poi è tutto uscito tranquillamente. Andare ancora molto lungo, denso di impegni come dicevamo, però questo Rimini dove può arrivare secondo te adesso? Sicuramente è ancora lunga, però dobbiamo deciderlo noi, in senso che se continuiamo con questa mentalità e questa voglia di allenarsi bene tutti i giorni, tutte le settimane che continuiamo così possiamo vedere anche lontano, se no dipende tutto da noi. Grazie a tutti.